La protagonista di questa recensione è lei, Asus ROG Falcon Ace, ovvero una tastiera meccanica illuminata in RGB con un sacco di chicchi interessanti, compattissima perché lei è una 65% e che unisce quindi prestazioni top a portabilità top. Il suo ambito è il gaming, ma come vedremo sa interessare anche settori e segmenti di mercato che non sono prettamente quello del gaming e degli sport. Ma beh, io sono pronto a parlarvene e a spiegarvi il perché lei ha un suo posizionamento di mercato, un suo collocamento veramente interessante, veramente accattivante e perché alla fine della fiera lei mi è piaciuta. Bene, io sono pronto a iniziare, ma prima di parlarvene approfonditamente dobbiamo dare spazio alla nostra sigla. E ben ritrovati amici di Team Tech, io sono Filippo e sono prontissimo ad iniziare con la recensione di Asus ROG Falcon Ace. Apriamo le danze con l'unboxing e la confezione della tastiera. La confezione che da una parte è minimal nelle dimensioni, ma dall'altra, beh, presenta tutti quegli elementi caratterizzanti del brand ROG. Quindi il logo, il rosso, il nero, l'immagine in sovrimpressione e una volta all'interno abbiamo una confezione veramente ricca che appunto non è minimal come le dimensioni. La stiera che si trova alloggiata in una cover per il trasporto che è in tessuto. E come vedremo questa è molto interessante, molto utile per il trasporto, quello maneggevole, portandola sotto braccio, portandola in uno zainetto, dove comunque non c'è il rischio di danni particolari, ma è molto utile per proteggere dalla polvere. Abbiamo poi una seconda cover, questa è customizzata ROG, ha una placca in alluminio superiore, sempre superiormente abbiamo dei piedini. E questa coppia di soluzioni io l'ho apprezzata veramente molto, perché secondo me una protegge dalla polvere, una protegge dai trasporti, quelli un attimo anche più rischiosi, dove c'è il rischio di prendere qualche botta. Prendiamola velocemente in mano per parlare del suo design e del suo layout. Design, beh, e layout ci introducono proprio l'aspetto estetico. Infatti lei è una tastiera, veramente, come vedete dalle mie mani, compatta e minimal, ed è una 65%. Questo formato 65% include 68 tasti, però nelle dimensioni sono le stesse dimensioni di una 60%, quindi è ancora più compatta rispetto allo standard di categoria. C'è il supporto al 100% dei tasti anti-ghosting, quindi non c'è il rischio di questa problematica, risponderanno sempre bene senza appunto questo tipo di difetti. Per chi non avesse bene in mente cosa significa 65%, ve lo mostro subito. Bene, innanzitutto manca tutta la linea dei tasti funzione, quella superiore, poi andando nella zona delle frecce, la famosa isola delle freccette direzionali, mancano alcuni tasti che di solito sono posizionati in questa zona qui e poi manca interamente il tastierino numerico. Parlando proprio di layout, beh, Asus nella sua progettazione, nel suo sviluppo ci ha fatto un bel regalo. Perché? Perché lei è stata rimodellata, ridisegnata e riadattata per gli utenti del bel paese, cioè per noi italiani. Infatti qui abbiamo a bordo, rispetto alla versione internazionale, un layout ISO-ITA. Il layout ISO-ITA è quello che siamo abituati tutti i giorni ad utilizzare sulle nostre tastiere e che su questo tipo di soluzioni non è affatto scontato perché tantissimi brand le portano in versione internazionale, quindi con layout anzi americano. Mentre in questo caso, avendo quello italiano, non dovremo adattarci, praticamente, il passaggio sarà immediato dalla nostra vecchia tastiera a lei. E questo è un plus, sicuramente non indifferente. Parlando poi di design, quindi di aspetto prettamente estetico, beh, lei in colorazione bianca è bellissima, è compattissima, fa un figurone, io ve lo dico. Soprattutto con l'illuminazione RGB che è di qualità top. Tutti i LED sono controllabili tasto per tasto e questo avviene ovviamente tramite il software dedicato di cui parleremo successivamente. Qui sul fianco sinistro è posizionato un altro elemento di novità, un elemento di rottura con lo standard di categoria, con i competitors. Cioè qui c'è uno slider laterale touch con un pulsante più e un pulsante meno e poi vari step, vari gradi. Beh, questo slider appunto toccandolo e usandolo come tale ci permette di albassare o alzare il volume del nostro PC o delle nostre casse in questione direttamente dalla tastiera in una maniera veramente semplicissima. Come citavo già prima, dimensioni e portabilità assolutamente al top del top ragazzi miei, è compattissima, si porta in uno zaino che è una meraviglia ma tranquillamente anche sotto braccio, l'ho portato un sacco di volte sotto braccio durante gli spostamenti anche grazie al suo peso che è di soli 600 grammi. Nella sua costruzione, beh, questa è subito a prima vista, solida e lo si riconferma una volta che ci mettiamo le mani sopra perché è solida, è rifinita, è ben costruita, ben assemblata proprio per garantire una certa resistenza e certi standard qualitativi che in certe fasce di prezzo sono appunto molto importanti. Sempre qui sul reto troviamo 4 piedini in gomma per poterla posizionare meglio, quindi per migliorare proprio il grip sulla superficie e sempre per la nostra ergonomia abbiamo anche le ali che si vanno a sollevare, anzi per meglio dire a inclinare, fino a raggiungere gli 8 gradi di inclinazione, quindi anche qui per aumentare e migliorare l'ergonomia del caso. Andiamo ora ad analizzare i keycaps che ricoprono gli switch di questa Asus ROG Falcon Ace. Beh, questi keycaps sono disponibili in due versioni, due varianti sul mercato, quella con keycaps ABS Laserhead e quella con keycaps in PBT Double Shot. Vi dico subito che il secondo materiale è più pregiato del primo su qualunque punto di vista, però devo anche spendere delle parole positive per i keycaps in ABS qui disponibili. Sì, perché dovete sapere che questa mia variante che mi è stata inviata per la recensione possiede i keycaps in ABS e questo ABS è migliore rispetto allo standard, è migliore rispetto ad altre tastiere che ho provato proprio con questo materiale. Infatti comunque, pur essendo appunto ABS, certamente non il materiale più pregiato per realizzare keycaps per una tastiera meccanica, c'è anche da dire però che effettivamente non è niente male, non è troppo sottile. E quindi sia il sound risulta un attimo più corposo della norma, ma anche l'usura sono convinto che li colpirà più tardi. Nel caso voleste sostituire i keycaps in questione, perché è un'operazione che si può fare tranquillamente, va bene qualunque set di keycaps a croce. Per questa tastiera ASUS ha scelto di dettare degli switch proprietari ASUS ROG NX RED, switch di tipo lineare con forza di attuazione 45 grammi, 3 pin, sono praticamente lo switch del tipo più classico che esista, quello proprio che ci immaginiamo quando parliamo di una tastiera meccanica. Garantiti tra l'altro per ben 70 milioni di click, che sono tantissimi, e hanno lo stello rosso a croce che è lubrificato di fabbrica, e questa è la caratteristica tende di nota perché pochissimi brand fanno questo lavoro. Devo dire però che non si tratta di switch hot swap, quindi non sono sostituibili per acquistare e verificate un attimo se fanno per voi o meno, perché a quel punto poi diventa veramente complicato utilizzare una tastiera con degli switch che non piacciono. Fra gli stabilizzatori questi sono posizionati sotto elementi cruciali come la barra spaziatrice, che appunto possiede i suoi stabilizzatori del caso, e beh questi sono di una qualità costruttiva un po' inferiore rispetto allo standard della tastiera, rispetto anche allo switch stesso, la qualità è più bassa, però questi stabilizzatori alla fine non hanno quel tipico rumore metallico che massacra le tastiere da gaming di brand più commerciali come sono ASUS, Corsair, Razer e via dicendo, però sono inoltre anche lubrificati di fabbrica e anche qui come dicevamo prima per lo stereo dello switch non è un'informazione da poco. Parlando del sound che è un elemento molto importante per chi scrive e per chi gioca ma soprattutto per chi scrive, beh il sound è caldo, corposo, secco, è un sound molto migliore rispetto allo standard, rispetto a tanti altri competitors e raga non è un elemento indifferente il sound. Ma ora breve, anzi brevissimo, sound check, che però basta rendersi l'idea. Comunque ci si scrive benissimo, alla grande non vi preoccupate è adattissima anche a chi scrive, non solo chi gioca. Io per dire ho scritto la recensione testuale di cui trovate il link qui sotto, beh l'ho scritta direttamente con lei e mi son trovato una meraviglia. Ma come si gioca? Beh grazie allo switch lineare rosso con forze di attrazione molto basse perché 45 grammi è bassa, quindi scende una meraviglia. Poi lubrificato di fabbrica si gioca veramente al top del top, le prestazioni in game sono eccellenti e se fossi un pro players ve lo dico non avrei alcun problema ad affidarmi a lei anche per il torneo più importante della mia vita. Parliamo ora del software. Il software è Asus ROG Armory Create. Armory Create che è un software proprietario che abbiamo già imparato a conoscere in svariate recensioni. Ebbè come sempre io ve lo dico è molto corrente con lo stile del brand, un stile che richiama costantemente la brand identity di ROG. Se devo fare una puntualizzazione secondo me ha un po' troppi menu nel senso che ci sono vari menu che potrebbero essere raggruppati in altri menu contestuali. Quindi secondo me si potrebbe rivisitare un attimo sotto questo punto di vista però l'intuitività è alta anche per un novizio e a questo si aggiunge che ci sono una marea di funzioni. Perché andando a prendere la tastiera in questione, quindi la Falcon Ace, basta prendere un singolo tasto e questo singolo tasto ha una marea di funzionalità sbloccabili. Cioè si può assegnare a questo tasto, lo si può rimappare in qualunque modo. Poi c'è tutta la gestione dell'illuminazione RGB che è fantastica perché ci sono dieci preset che sono quelli classici, quelli più comuni. Poi ci sono i giochi di luce, poi ci sono i cicli e poi anche qui ci sono le macro. Pidica riguardo alla connettività che secondo me è abbastanza importante, infatti se leggete la mia recensione scritta che come vi dicevo è qui nella descrizione. Beh effettivamente vi devo dire che io ho avvertito la mancanza della connettività wireless. Qui non è una tastiera di tipo wireless e vedendo il prezzo e vedendo anche il tipo di formato che si adatta benissimo a girare senza l'ingombro del cavo, beh ragazzi io l'avrei voluta, l'avrei voluta. Però se devo spezzare una lancia in favore della Falcon Ace, vi devo segnalare come ai lati della tastiera, all'estremità destra e all'estremità sinistra, effettivamente ci sono due ingressi USB-C. Questo in maniera tale da avvicinare l'ingresso sulla base del posizionamento del PC. Quindi se a nostra sinistra lo metteremo a sinistra, altrimenti agiremo a destra. La SOS ROG Falcon Ace è disponibile all'acquisto su Amazon, venduta e sferita da Amazon al prezzo di circa 135€ nella variante in cui l'ho io con i keycaps in ABS e gli switch RED. E tiriamo dunque le conclusioni. Beh, devo dire che il prezzo è vero e alto, però questa è una tastiera che mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché innanzitutto è compatissima pur non sacrificando elementi che secondo me nel quotidiano sono fondamentali, come le frecce direzionali, perché una tastiera senza le frecce direzionali non riesco ad utilizzarla. E qui abbiamo veramente, nonostante ciò, una portabilità estrema. A ciò si aggiunge un design accattivante perché è molto bella da vedere, una qualità costruttiva sufficiente e soprattutto delle prestazioni in gioco che sono eccellenti perché in gioco abbiamo il top del top di quanto una tastiera meccanica effettivamente possa offrire. E poi ci sono le macro, c'è l'illuminazione RGB, comunque si reclina fino a 8 gradi e ci sono due porte USB-C. Quindi a livello di funzionalità non manca nulla, lo slider touch l'ho apprezzato tantissimo perché secondo me in vari contesti è veramente, veramente utile. Cosa manca? Qualcosa manca perché il prezzo comunque è alto, ripeto. Manca la connessione wireless che effettivamente a qualcuno e anche più di qualcuno, ma in primis, poteva tornare utile. Avrei gradito i kick-ups in PBT e quindi questi elementi, queste mancanze comunque non me la fanno definire un best buy per tutti. Però consigliata per tutti sì, perché alla fine accontenta tutti, scrittori perché si scrive molto bene, gamers perché si gioca al top del top. Per chi voglia fare entrambe le fasi, beh in quel caso veramente secondo me è un connubio al top o quantomeno da valutare molto attentamente. Di conseguenza keyboard approvata, che mi è piaciuta? Che vi consiglio? Come vi consiglio? Beh di mettere un bel mi piace a questo video se il contenuto fosse stato di vostro gradimento. Altrimenti se così non fosse dislike, ma magari nei commenti ci sentiamo per critiche, consigli, domande, dubbi, qualunque cosa rispondiamo sempre a tutti. Un'iscrizione al canale e la campanella attiva per seguire sempre i nostri contenuti futuri e rimanere sempre aggiornati. Dai ragazzi qui siamo al termine, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo, un saluto da Filippo.